Wow ma guardatemi come sono bello col mio samurai di ghiaccio elettrico Troppo fico, troppo epico Troppo bello Ma guarda che blu che sei Ben ritornati su StumbleGuys per un nuovo episodio dove trionfaremo anche oggi Beh inizia ad essere un po' più difficile ma noi siamo fiduciosi di riuscirci Siamo i più forti Noi trionfiamo sempre perché siamo la squadra del cuore E poi il gioco diventa difficile e noi sempre più forti Sempre che qualcuno non mi metta i bastoni tra le ruote come l'ultima volta Ho tipo Alex Guarda quanto scabordo guarda Guarda come prepotentemente con lo suo Guarda come prende le palle in bocca Ma prepotentemente le prende Corri, corri, corri No Giorgia, Giorgia mi tocca, Giorgia mi tocca No, 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 non ti tocca, non ti tocca Giorgia mi spinge, Giorgia mi spinge Mi sono allontanata Giorgia mi ha spinto col pensiero Giorgia col pensiero Non che ci sono però no Mi prendo Riprendo prepotentemente le posizioni Ma no Ma no Ma che ci sei quasi Le prendo prepotentemente Vai Anna Vai Anna Vai 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 Ci siamo Mamma mia Stavolta un po' perriti Molto più difficile Molto più difficile Attenzione perché Sembra che la difficoltà Stia effettivamente aumentando E salutavano pure Ma non è stato Tu hai sempre più bittone Però noi con grande vemenza Pupo siamo andati lì Vementi E anche voi Vementemente Che vuol dire con energia Premette il pollice in subito Per farci capire Che volete vedere altri episodi Di Stamble Guys Ok Che bellissimo Dai io ci metto anche in rotanti Non so capace qua Io Io si Dai Lai anche qua sei bravissimo Io si Io l'ho imparata Io l'ho imparata È tutto appiccicoso Io l'ho imparata My friends Sono diventato Number one Sono diventato Bisogna Bisogna precedere i movimenti del tronco Avete capito Io sono fortissimo Bravo 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 Guardami Imparaci Guardami Dai dai io corri 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 Qua bisogna fare così Ti giuro ma seguendo te Si arriva sempre Ti giuro Bisogna essere astro intelligenti Bisogna proprio precedere Ma guarda che con la squadra Si aumenta la potenza Attenzione perché qui c'è un inghippo Stiamo dando tempo di riprendere a tutti Ma che si è bravissimo Ma scabordo Riprende le posizioni Allora giù nei commenti Spammate il nome Di scabordo Un solo grido Un solo incanto Ma proprio lui E scabordo E me ne va E tu Il tonico inevitabile L'eroico scabordo Wow Giro della morte E zoom Andiamo arrivati tutti noi 5 insieme Che bello Ma che possenza Guarda era da tempo E tutti gli altri dietro Addire Era da tempo che un gioco Non ci dava così tante soddisfazioni Si ci fa sentire Ma poi ci sono probabilmente tante Che noi ci giochiamo anche in live la sera Si E' vero Quindi tutte le sere alle 19 Non mancate Venite in live Non qui su youtube Ma sul sito viola Per trovarlo Link in descrizione Nel primo commento Oppure scrivete Lion WGF Live Tutto attaccato Come Alex è attaccato Al mio sedere No Alex si attacca E' un po' colloso Ti fa cozza Vongola Una vongola E anche a toccarti E a spingerti Sempre a fare queste brutte cose Attenzione Nei miei occhi Nei miei occhi inizia a leggersi Preoccupazione Sembra che tutti siano forti Non mi devi preoccuparti Tu sei fortissimo Adesso iniziano i veri ostacoli Vedrai che andranno tutti giù Ma quanto è veloce Diciamo Ora le punze Le punze Siamo andati giù Brava anche Anna E qui qualcuno ha morto Dai Oh Dio Amici Oh questo è possibile No Dai no No Io sono ma Questa è parzialmente colpa È parzialmente colpa di Anna Secondo me Perché Parzialmente colpa di Anna Perché mi ha rubato la vittoria E questa cosa a me ha fatto del male dentro Non è vero Perché io ho vinto per te Ho vinto pensando a te Eh io Ti ringrazio però Te l'ho dedicata Però Ho un po' Patito questa cosa Questa tua scelta È stata patita L'ho visto Ti sento pure patito un po' Facciamone un'altra Se vinco Ho 1500 gem Per scioppare l'altra Mia skin preferita Oh guarda Oggi la giornata è il drago rosso Oggi è il drago rosso Il drago tocoso Anche se vi devo dire la verità Il samurai elettrico ghiacciato È epico Mi piace Ma anche il drago è bello Eh il drago è un po' al suo contrario Perché questo è ghiacciato Il samurai blu è più bello Perché tu così sei un ninja Capite? Fai fum fum Alex non provare neanche per scherzo Ad associare la bellezza del samurai di ghiaccio Con la tua skin schifosa Ok? No io non l'avevo detto Perfetto Perfetto Io ti ho avvertito Prima Così capito Lo sapevi già da prima E non ti viene a mente Vabbè così non lo faccio Non lo fai Ok perché giustamente Poteva dare fastidio No che tu facciate Cioè ci mancherebbe La tua skin è più bella di tutte quante Associare la bellezza di questa skin bellissima con te Ma infatti ma scusa ma solo al lion si può associare Solo al lion che No Bravissimo No Che uccella Ti sei crociolato Però posso farcela ancora Posso farcela ancora Posso farcela ancora Dai non così sono forti Vai lion Lo vedo lo vedo Ce li abbiamo tutti addosso Vai che stiamo aspettando No Dai lion metti il turbo Opa Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ci sto ci sto ci sto Vai che sei potente Corri Vai passo Vai passo Vai passo Allungo allungamento totale Vai 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 bravissimo Ci siamo tutti Che sudata stavolta Inizia a essere È stata tosta eh Tosta Tosta davvero Inizia ad essere bravi questi qua Io non me l'aspettavo Ma anche noi Non ci facciamo mettere i piedi in testa da nessuno Prepotentemente O uniamo Li mettiamo noi in piedi Possediamo le partite come dei veri possessori di partite Però Come i capi delle partite Quale sarà la prossima Giorgia Stai zi Cioè tu no Tu no Cioè tu è già tanto Che stai procedendo Effettivamente che non ti viene eliminata Ha rotto pure il gioco Ecco ci impiega un quarto Ma infatti Colpa di Giorgia La trovata però Ecco Vedi è colpa mia Sì Qualcosa è colpa mia Sempre Normal Mandiamola avanti Mandiamola avanti Vai avanti un po' Eh vado avanti Almeno sono utile Vai che sei coraggiosa Vai avanti Vai avanti Ok vai 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 E andando avanti tu No hanno spento No la io Oh ma sto scoprendo tutta la mappa Andate avanti voi Ma sei forte vai 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 vado io Oh sì Guarda guarda che ce la stiamo facendo Oh ma è tutta dritta Vai Ma la si prende No No Che idea io sono sempre Ok Ci sono ci sono ci sono Oh Anna E io ci sono No No Giorgia Era Giorgia E mo perde Giorgia No Giorgia si è sacrificata di brutto Giorgia corri Giorgia Senta No Dai povera Giorgia va bene Giorgia questa azione la terremo nel cuorassone ci ha aperto la via permettendoci di andare avanti ma sentite come Borbotta ha strecato in mezzo agli altri dando solo fastidio ma non ti raccogli di Borbotta ma non ti farei schifo quando fai così ma quanto sei brutto io mi farei schifo ma veramente e dicono che sei garbato tu non sei garbato sei un cafone ma non auguro che tu ti ci schianti cosa mi devo schiantare io voglio giocare prima Alex vedi di toglierti da mezzo perché guarda Alex muori immediatamente per cortesia volevo sabotare gli altri se vuoi ecco sabota questi due ti provo io qua sono il campione tu sei proprio bravissimo in questo gioco fatemi sabotare stupido io qua non ho nessuno non quello l'altro è morto sta buttando ma qua sono il number one questi due ne è morto uno ma che salto è da quello questo qui vuole prendersi la vittoria ma non ha capito niente non ha capito proprio niente non ha capito niente dai Alex quasi ah 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 number one victory victory sei stato epico che bello guardate come balla lo so cosa ci vuole una skin anche due anche cinque anche dieci ma dieci forse no dai dieci sono tante va bene allora senza neanche perdere un petto secondo dai che trovi una cosa di meraviglioso andiamo nel negozio prendiamo la skin gratis non ce l'abbiamo perché l'abbiamo presa già ma prendiamo cinque skin epiche o superiore sperando che esca quello che desideri tu più di un'altra cosa che uscirà prontiii vai prontiii bene allora la prima che ci esce è il diavolo leggendario che è molto buono ma avevo già passiamo molto bene prossima skin che ci esce noi desideriamo il drago di fuoco non ci è uscito il drago rosso ci è uscito il ciabattaro ma un prossimo più bello dai drago un porcello un porcello non va bene no non ci si avvicina neanche ma quello che cosa ce l'hai allora dai che ci deve essere quella epica freghiamo il drago e diciamo non lo vogliamo il drago ci fa schifo non ci si è riuscito affatto il drago a noi ti ripugna perché fa schifo non è uscito per le reti vogliamo le sirene non i draghi riproviamo altre tre skin dai queste qui non erano così buone da saziarmi altre tre drago sempre altre tre ma anche non drago perché il drago ma tutto il resto tra il drago non lo vogliamo ci va bene anche il maiale con cinque gambe guarda è infatti uscito proprio quello ma si bellissimo il maiale con cinque gambe non lo so prossimo se l'hai sognato niente drago maiale con quattro gambe è uscito adesso ma anche quello ci piace proviamo altre tre queste qua sono quelle buone lo sento che qui c'è il drago qui è il drago è il tuo profumo di speciale il drago non ci interessa il drago è per i pivelli è uscito il cavaliere senza macchia però non è il drago quello è bello però astronauta che era magia sulle dita devi sentirla ma io la sento pure ma non riflette perché non esce niente di bello non senti il calore del drago ho già preso bellissime skin ultimissima decisamente bellissime dai il drago però il drago mi manca cioè proprio quella che serve per essere felice ecco dai ce l'hai e questa è la tua e ti fa la ciglia e gira sulla torta il drago mi è uscito il leone lucicante leggendario bello 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 però vabbè per ora a me piace assai quello mi accontento vi do il codice siete pronti? prontissimi bene allora il codice per la vostra partita che siete ansiosi di giocare è nessuno perché si è impallato il gioco no dai nuovo giro nuova corsa stumble guys questa volta e nuova vittoria soprattutto la voglio la vittoria io adesso ci sto andando vedrai la vittoria perché secondo me il drago vuole più vittorie me la senti in pugno me la sento nei miei pugni ghiacciati e fulminanti da samurai bellissimo dai laio comunque ci sono delle mappe che noi non abbiamo mai giocato tipo quelle del deserto forse una volta ma escono sempre queste questo è un peccato sono pure vabbè queste sono belle siamo pratici sempre a destra dai laio tu fai la punta fai la punta ragazzi ci hanno fregato erano di più dall'altra parte però stiamo andando noi siamo tra i primi dai dai corri corri ok va ma vabbè come c'è passato opla guardanna con l'asciugamano costantemente con l'asciugamano no 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 non devi guardare me devi pensare a te torca miseria però questi sono stati sgovinati no non mi aveva toccato però non mi aveva toccato non mi aveva toccato ma io non ho detto la palla le prendo tutte ma senti la forza del drago è solo odiotto si vede che vai la potenza elettrica che scorre ti vedo ti vedo no ma tutte le volte che Alex mi vede mi guarda io muoio ma come vai non ti guardo guardo per terra è quello che porta sfortuna è stato tutto a lui ogni volta guarda questa volta io penso di aver proprio perso è stato un arrasto questa volta dai dai opla ci sto dai 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 vai 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 ma così voi non siete passati io ci sono io ci sono quindi chi non c'è è stato io però stress e cosa ti dico sei stato garbato non come Alex che mi stava aspettando e poi è entrato prima di me ma l'ha fatto veramente si si stai zitto sei veramente un egoista mi vergogno molto eppure un infame guarda adesso che sei in mezzo alle scatole guarda che io sono caduto è per guardarmi per guardarmi allora ti devi concentrare e scivolare col tuo pancino magico elettrico Alex mi ha fatto cadere è stato lui è stato lui si 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 guarda guarda non riesco più a passare adesso io ma che lui mi metterà in autopunizione ma hai messo in punizione per colpa sua ma di più ti devi mettere in punizione tu tu dà la punizione non ne devi uscire mai più devi chiederti in casa perché lui merita solo la punizione meriti solo quella io adesso non riuscirò a passare ma io non dire così dai dai tu sei stato cattivo e ti sei messo in mezzo e mi hai mi hai sabotato mi hai sabotato tu ma dimmi te mi hai sabotato di brutto ma che amico sei ma che amico sei non sono un amico sono un sabotatore un infame sei dai dai concentrati ma che ce la puoi fare eh ho preso una boccata eh un po' però ci sono delle persone incagliate ma recuperi di brutto eh sto recuperando davvero oh cacchio vai 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 sei la fine sei la fine vai 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 ti ho aspettato ma andate anche voi andate anche voi però che qui ci sono due posti c'è anche Alex che schifo Alex io ci sono io ci sono Alex non meriterebbe ce l'avete fatta a tutti si vero scusate eh ci sono alcuni che credo siano i bot tra l'altro questi ma non tutti perché questa qui non è un bot per esempio è un po' incastrato però era incastrato vabbè ci stai magari sei uno nuovo portate che siamo passati come la squadra del cuore no tu stai zi tu sei una personaccia vedi che era anche lì vicino a te sempre vicino sempre a casa Alex sei schifoso non devi deve essere il primo a cadere adesso lui infatti io mi auguro io me lo auguro uno sarà il primo che si potrà vedi se puoi sabotare a me vedi perché tu sei capace tu sei capace proprio a fare queste cose no non lo farei mai eh no non lo faresti mai è affatto come prima ho salvato Giorgia oh ma io sono già avvantissimo vai 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 non ti fermare mai però Giorgia e Anna che cos'era questo schifo è colpa di Anna questo eh ma di brutto eh Anna è colpa tua eh perché non è che perché il stumble guys è movimentato allora devi fare il mercato del pesce che pesce vendi eh le trote salmonate Anna eh ho capito ma a mangiarle non a parlarci insieme eh Anna hai ragione eh adesso è inutile che ti spegni e ti addormenti eh mi fai arrabbiare ancora di più così e poi ti ha superato e poi intanto no Anna Anna oh io non passo lo sai io uso il backup capito Anna Anna fa veramente schifo vai vai no non fa adesso adesso non ci voglio andare adesso adesso ci vai te è finale oh butta di dentro adesso adesso non ci voglio andare Anna perché tu fai l'antimo è bravissimo è bravo è fatto Alex così c'è gusto perché stava arrivando Alex a rubare la vittoria a tutti due quello schifoso quello infame ma prima l'hai visto ti sei lanciato come un fuoriato bene Anna voglio le tue scuse immediatamente sei stata veramente caffona mi dispiace molto ma veramente guarda a livelli di Alex parlare così oh mio dio è peggio di me no peggio di te non è nessuno mai nel mondo però ai livelli di Alex è comunque brutto surprise surprise non ci sta facendo riconnettere di nuovo insieme no è colpa mia mi dispiace di nuovo questa ma siamo bravissimi noi in questa ma che palle siamo eroici in questa noi dai no io che tu sei già partito come un razzo dai io conosco la memoria anche tu Giorgia però cioè no io ti avevo visto sfrazzare ma non fuori guarda Anna Anna cioè io guardare a te che ti metti l'asciugamano in questa maniera mi deconcentro mi metto l'asciugamano che ogni volta se lo faccio così mi lasci indietro non è vero sei tu che guarda sei là in live succede sempre mi lasci sempre dietro no raga io ho visto Alex no cosa hai visto io ho visto Alex e ti sei sentito male guardalo guardalo sei brutto quanto infame cioè è incredibile bellissimo perché uno dice dovrebbe essere o più brutto o più infame invece tu riesci ad equilibrare queste due caratteristiche vergognose e sei quanto brutto e quanto infame era lì pronto a farti lo sgambetto secondo me perché non provi ad equilibrare anche qualche caratteristica positiva sai cos'è che dovremmo fare sai cosa dovremmo fare dovremmo metterci d'accordo e mettere tutti la stessa skin di colori diversi ma non dirlo ad Alex così lo escludiamo bell'idea bell'idea sì il belore più grande è quello ma andiamo sgabordo sì vai ragazzi c'è di nuovo Alex in mezzo io non ci posso credere io non ci posso l'ho visto l'ho visto era di nuovo in mezzo ma non lo spingo era di nuovo lì non si può spingere come un infido sporco infame dai ma come si permette di volta ma in mezzo le assi in faccia dai ma eh ma qui chi è oh no chi è che ha preso una banana guarda ma sono strecato e non hai detto niente a lui non è vero ma sono che sono queste cose che prendono colpi tu sei garbato non ti farle mettere in brutta luce guarda Alex come è addosso ma che è schifo ma che persona sei ma non lo metti a stringerti Giorgia vai che ce la puoi fare no Giorgia fa il schifo no Giorgia eh niente non importa ma io sono con voi ma che Anna ha sucato eh sì te di me non ti accorgi mai eh ma tu non hai idea di quanti poli abbiamo preso ma io ero convinto che tu fossi arrivata Anna sei sempre la prima e ora cosa è successo eh sei morta così inaspettatamente hai inciampato su strecato no io sono offesa sono offesa ma bene poi allora Alex è un cattivo basta si mette in tuo onore Anna la skin tua preferita va bene va bene ecco che così non è più offesa il pirata d'oro ti piace il pirata d'oro mi piace moltissimo il pirata d'oro è difficile oh Alex ci moriva un pezzo di merda togli i sordi con quei due ce l'abbia fatta stai recato un malchice del laser no tre devi vincere tre che succhia mamma sei un succhia succhia di frutta veramente era la prima volta che potremmo vincere guarda hai fatto vincere un bot forse questo qua hai fatto vincere io non lo so stre ma come uno ti dà una responsabilità tu ci hai messo tre mezzi secondi a pisciarti sotto guarda io non lo so come hai fatto ma ce l'hai messo un tempo minuscolo per favore devo piangere eh ma ora è il momento del shopping però e poi devi mettere la skin che scelgo io ne mettiamo 5 mi mancava di frutto e vediamo che cosa ci esce da queste 5 noi puntiamo sia al drago ma anche al samurai di giada perché anche quello è bellissimo incrociamo le dita allora Yeti non ci piace non è bellissimo però magari qualcosa di meglio eh tirannosauro qualcosa qualcosa no no stanno uscendo schifezze però dai deve uscire una bella per forza dai ho spray che cosa devo fare uscitano la lucertola marrone non è buona non è buona non ci piace la lucertola dai che ci piacciono le leggendarie niente ragazzi niente di buono ne provo altre 3 queste saranno buone ve lo dico io no deve essere speciale questa potrebbe essere è una buona skin il drago non lo sto neanche più vedendo in foto pensa te è anche quello di bambini dai non lo vogliamo il drago non ci merita mi sa che si è offeso perché non sta uscendo non lo so sì anche secondo me si è un po' offeso dai torna un po' qui da noi dai fatti rivedere un'altra volta drago niente niente ultimissima ultimissima dai che ci devi credere però è uscito il samurai che non avevo quindi sono anche con te ok dai niente male uh il samurai di giada c'era niente però no è anche quello è bello gustoso è bellissimo niente vabbè amen per oggi è andata a finire così ci vediamo stasera in live mi raccomando non mancate e per oggi un bacione e lion out ciao